ciao buongiorno in questo video ti do un'altra ragione per cui devi fare un'attività come la mia un'attività di network marketing un'attività online questa ragione è che non hai bisogno di raccomandazioni parti dal livello di tutti dal livello dove sai tu dove dove partono tutti e non devi fra virgolette leccare il culo a nessuno per riuscire perché tutto dipende da te tutto dipende dalla tua forza di volontà dal tuo impegno e dai tuoi risultati e in tal senso posso raccontarti per esempio la storia di franca franca è una donna la donna sulla sedia a rutelle purtroppo per un incidente quindi considerata handicappata nella nostra nella nostra società e dove andava a lavorare lei non veniva mai valorizzata perché perché per esempio non poteva non la mandavano a fare il commerciale perché era sulla sede a rutelle non gli davano mai dei ruoli di responsabilità per perché pensavano che essendo sulla sede a rutelle l'immagine non è un'immagine positiva che poteva dare al resto del mondo e questo l'ha fatta sempre sentire inadeguata perché poi la facevano fare la centralinistra la segretaria cosa che lei sentendo di avere capacità di avere voglia di avere ambizioni sentiva di poter fare molto ma molto di più ha iniziato con noi ha iniziato part time perché già stava facendo due lavori per mantenere tutta la famiglia perché oltre a stare sulla sede a rutelle mantene mantiene quattro figli e un nipote e adesso è riuscita grazie al lavoro con noi ad abbandonare questi due lavori a lasciarli questi due lavori a continuare a mantenere la famiglia ma soprattutto adesso si sente gratificata adesso è diventata una direttrice per il suo team ha creato un suo team sviluppa fatturato sta crescendo sta andando fuori dalla zona di comfort sta diventando una persona soddisfatta ma soprattutto una persona che può che può esprimere se stessa attraverso il proprio lavoro e non deve dire grazie a nessuno cioè magari può dire grazie al suo team può dire grazie alle persone che gli danno una mano ma è un grazie completamente disinteressato non è che se a me mi dice grazie o no cambio qualcosa per la sua attività tutto quello che fa è merito suo tutto quello che ottiene è merito suo ed è veramente bellissimo quindi se vuoi conoscere la storia di Franca contattami te la faccio conoscere ti faccio vedere un suo video ti faccio vedere il suo profilo e capirai cosa significa essere felici veramente e gioire per fare un'attività che ti gratifica per che ti fa sentire importante in un team ma che viene con se che puoi considerare la la tua seconda famiglia un ambiente in cui le persone sono felici per il tuo successo e dove il tuo successo non non significa che devi mandare via qualcuno lo so che sono concetti magari un po difficili da capire ma se vieni poi su facebook sul mio profilo te li spiego e ti mostro tutto con calma ripeto bastano 25 minuti di attenzione a me a Franca tantissime persone questa attività ha completamente stravolto la nostra vita potrebbe succedere anche per te se decidi di impegnarti se decidi di focalizzati se decidi di dare a questa attività l'importanza che merita perché se gli dai x questa attività ti restituisce tutto moltiplicato mi ha fatto piacere parlare con te mi ha fatto piacere conoscerti mi auguro che mai contattato se non mai contattato hai valutato che questa cosa non fa per te mi dispiace ma ci sta anche questo se ancora non l'hai fatto contattami ciao un abbraccio ci sentiamo presto